e ben a tutti ragazzi e ragazzi nel vostro caro maestro king e benvenuti in questo nuovissimo video quest'oggi siamo in un video nuovo un video un po particolare e perché volevo mostrarmi la mia collezione di carte pokemon le ho già suddivise in quell'allenatore e supporter energia i pokemon di suddivise semplicemente quelli che ho normalmente quelli che ho messo in varie ci sono varie forme quindi magari lo stesso non solo di non intendi allora o normali bensì di la stessa forma dello stesso pokemon in però con le immagini differenti per esempio gramer di allora ne ho due differenti tra di loro ed infine quelle un po più rare che ho trovato e quindi direi che possiamo subitissimamente andare a vederle allora direi che possiamo cominciare con l'unica carta supporto che ho che ovvero che è schiamazzo di emsi e ha come come effetto che bisogna lanciare una moneta se esce testa si pescano tre carte altrimenti se ne pescano due quindi diciamo che non è male come e carta supporto da utilizzare non è rarissima però più che bene poi ne ho due che vanno praticamente a coppia che sono carta allenatore una la pozione max e l'altra è la pozione normale come si sa da questa da questa da questa da queste carte hanno semplicemente l'effetto di ricaricare e i pokemon le carte proprio che si utilizzano quindi non è un anno chissà quale tipo di effetto poi abbiamo altre due carte ovvero che vanno sempre a coppia perché hanno l'effetto comunque simile ovvero che la megaball e la minor ball e praticamente hanno l'effetto simile che si possono pescare alcune carte quindi va più che bene poi sia super martello che ha come caratteristica di andare a scartare energia che ha un'energia speciale assegnata ai pokemon dell'avversario e poi altare solare poi abbiamo la malasada maxi che ha come effetto come per la pozione e per la pozione max quella di ricaricare di punti danni poi abbiamo un distintivo acqua poi abbiamo scambio multiplo che ha come effetto di spostare l'energia il circolatore di pokemon che obbliga l'avversario a scambiare il pokemon attivo con uno di quelli in panchina poi abbiamo il super recupero che se la si bisogna lanciare una moneta e se esce test si riprende il manual di due dei pokemon e tutte le carte a lui assegnate quindi è comodo giusto per uno scambio poi abbiamo il getto di involuzione annulla l'evoluzione 1 dei pokemon che è già evolute e quindi si riprende in mano l'evoluzione più alta quindi se avremo un pokemon in fase 2 passeremo a fase 1 e se avremo 1 a fase 1 passeremo a base poi abbiamo rivitalizzante che permette semplicemente di prendere un pokemon base dagli scarti e riprenderlo e metterlo in panchina poi abbiamo ricerca di energia che permette di prendere pescare un'energia base ora andiamo ai denatore e denatore quindi ai vari personaggi qui ne abbiamo il professor Kukui che ci fa pescare due carte poi con vari altri effetti poi abbiamo Lidia che ci fa pescare finchè non abbiamo che non abbiamo 6 carte in mano abbiamo tenacia di brocca che ci fa rimischiare i 6 carte e proprio energia base e in qualsiasi combinazione dalla pila di scarti nel tuo mazzo quindi li fa prendere le scarti e li fa rimettere dentro il mazzo e infine determinazione di misti che fa scartare una delle carte che sta in mano e se uno lo fa si possono guardare le prime 8 carte del proprio mazzo e aggiungerne una alla mano però poi ovviamente bisogna rimischiare il mazzo ora passiamo alle energie che sono veramente veramente base non c'è bisogno di spiegarle energia normale energia acqua erba veleno lotta lotta elettro folletto fuoco ne ho due di due tipi differenti cambio solo l'intestazione e acqua e energia arcobeleno e infine l'ultima che è energia plasma ora passiamo alle carte pokemon quelle che già che ho in cui ho completato o la serie evolutiva oppure ci stanno dello stesso più più di uno più dello stesso pokemon partirei subito con quelle doppione cioè di vari tipi il primo abbiamo cutefly che abbiamo le due versioni poi abbiamo grimer e gramer di alola che abbiamo in questo caso le due versioni si differenziano da loro più che altro per le mosse e per le mosse che hanno la che utilizzano poi passiamo a quelli che si della linea evolutiva infatti il primo fletching e fletch inter non ricordo se ci dovrebbe essere un altro oppure no però per il momento ho solo loro due poi ho spiro e firo rattada di alola e radicate di alola poi ho bellsprout whipping bell e victory bell quindi tutta l'evoluzione poi ho uno starter quindi roulette dartrix e desidui quindi tutti e tre della sua linea evolutiva poi ho charmeder e charmedion anche se devo ammettere che mi manca la sua il suo ultimo la sua ultima evoluzione ovvero charizard ora passiamo a quelli un po' più e quelle più veloci quelli comuni infatti ho tanghera tartwig dratini cherubi starly utut tropius machop due bell codorita però che non posso utilizzare perché non ho la sua pre-evoluzione e electra paz stesso discorso di codorita e crygonal cast form shell elder stine un altro cute fly mi sa che questo è un doppione ah non vi dicevo godita ce l'ho no sono sbagliato wismicot glali boldor panciam ora intanto questi me li vado a spostare vado avanti machop pantum diopider jungos cadern pamphur wood blade magikarp vanilish alomula snorant se vedete comunque qualcuno vedete che ci sono varie membri la stessa linea volevo dire più che altro è perché me li sono perse mano a mano e araquanit electric duopider riolu wewill wimpod noebat miostick saw espur sorrock gloom drose turcoll sududo ora faccio nuovamente che mi li sposto così si vedono sempre bene metang shallow gliscor corsola tentacool cloyster comala o comala non mi ricordo mai come si pronuncia il suo nome weedle poliurata beldum metapod delibird girlipid wingal patratt marklow mi pare già ce ne avevo uno togedamaru sablay merani zubat trambic makuhita e chansei ora passiamo a quelli che ho che sono un po' più rari ovvero innanzitutto requaza e shemin che sono comunque leggendari un pochino più difficili da trovare ma neanche troppo passiamo a tucam tucannon e toxapex yamask septile che questo a differenza degli altri si brillucci da solamente la parte qui intorno al disegno l'ovni poliurata poricon 2 e loptile litwick blissei caramella rara riciclaggio energia e intanto questi li spostiamo wofobet ivy che questo ha un disegno molto particolare minior dogomedaru secondo zuelo bullpixi da lola tortonator super recupero bulnero polizza araquanid carbagna georud di alola slicku lega scheda alleatore legame mentale con slobru più altro uno strumento poi un altro jungus da spence e crowbarrel ora andiamo a quelli con disegni un po' più particolari ovvero ipno che a differenza degli altri sono più disegnati proprio e meno e meno realistici per così dire spinda wild bunny light poi ne ho due che fatti con i pupazzi ovvero poliwag e gumi infine l'ultimo che è un fuori serie ovvero executor infatti a parte le scritte sia in italiano che in giapponese potete vedere che qui in basso fuori serie quindi 109 su 108 quindi è questa la sua particolarità infine andiamo a vedere le ultime due carte ovvero nido king turbo che è molto molto particolare e desidui gx allora ragazzi direi che per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto come video un po' diverso dal solito spero che vi abbia ritrovato carino vedere la mia collezione di carte e poi qui sotto i commenti fatemi sapere quelle un po' più particolari che avete e mi raccomando lasciate un mi piace di seguirmi su twitter e Instagram o facebook o comunque voi vi piace e vi saluto ciao a tutti voi ciao